Joker vuole fermarlo e io lo farò. Potreste fare un rapido volto. Joker aveva razione, ho trovato qualcuno. Aaaaaaah! Sono sicuro che veniva da lì. E dai, dove sei? Accidenti a questo. Aspetta, guardo le spalle. Non è nessuno. Non è nemmeno sicuro di essere un uomo. Non è tentato di vedere persone vestite in tutti i modi. Chiunque di voi potrebbe essere Batman. Oddio, ho trovato qualcuno. Da questa parte! Che cosa ti è successo? Qualcuno ha un'idea. Troviamolo, i prossimi saremo noi, capito? Lasciatelo qui, sparpagliatevi e trovate Batman. Sono alla forza, qui non c'è niente. Batman è un uomo, è laggiù! Tre a terra, state restando in pochi! Dove è finito? Dove è finito? Hai sentito il capo? Uomo a terra, uomo a terra! Ehi, giù le mani! Ma ne ha stesi cinque! Sta perdendo la pazienza! Dov'è? Sopra le vostre teste? E' Batman! Così mi fatti tutti? Dice no! Che cosa ci vuole? L'esercito di mostri? Uhoho! Devi mettere fine a tutto questo, prima che sia troppo tardi. Che cosa? Ma se sono tutti curiosi di vedere la mia prossima mossa! Lascialo andare, subito! Davvero? Ok, se lo dici tu, Batman... Alizzatemi! Ehm... No! Dovrai accelerare le cose, Batman! Di questo passo non mi prenderai mai! Devo togliere la corrente a questa stanza. Ehm... Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Batman e a tutti. a tutti. non sareste... a tutti. a tutti. a tutti. la dietro. a tutti. 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 Oracle. a tutti. 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 sono tutti. a tutti. a tutti.